Il governo iraniano ha riaperto i balichi di frontiera con la regione autonoma del Kurdistan iracheno. I passaggi erano stati chiusi nel settembre scorso su richiesta del governo iracheno, dopo il contestato referendum con cui i cittadini kurdi avevano richiesto l'indipendenza da Baghdad. Dopo il voto, il premier iracheno Adair Al-Abbadi aveva dispiegato truppe su una serie di territori contesi con i kurdi, cercando inoltre di isolare la regione attraverso la fusura delle frontiere. Il valico di Parvishkan è stato chiuso che è fermato, privando noi camionisti della nostra unica fonte di guadagno. Grazie a Dio ora lo hanno riaperto e abbiamo già ricominciato a trasportare mezzo. Ora abbiamo solo un nuovo chiuso a vivere. Da Parvishkan, il posto di confine che separa l'Iran dalla città kurdo-irachena di Soleimania, epicentro finanziario della regione, passa il 50% dell'export iraniano verso l'Iraq. L'altro valico riaperto è quello di Tamarqin, usato per accedere alla capitale kurdo-irachena Erbil. Grazie.